Mancano ormai pochi giorni al voto, domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di Montevarchi, Anghiari, Sansepolcro e Civitella in Valdichiana saranno chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. Oltre alle classiche regole si sono aggiunte però anche quelle relative al Covid-19, con protocolli sanitari da seguire e precauzioni innate per garantire lo svolgimento delle pratiche di voto in sicurezza. Precauzioni che coinvolgono anche gli elettori positivi al virus, che si trovano ancora in quarantena ospedaliera o domiciliare e che si trovano ancora in isolamento fiduciario. L'ASL rende quindi noto che per coloro che non possono lasciare l'abitazione in cui dimorano sono ammessi al voto a domicilio per la consultazione elettorale. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori dovranno far pervenire al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico dell'ASL in data non anteriore al 19 settembre 2021 che attesti in capa all'elettore l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o infine isolamento domiciliario. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del comune di residenza.